E' oggi, martedì 31 agosto, la scadenza per pagare i debiti arretrati per i servizi scolastici a domande individuali, in particolare i buoni pasto della mensa, le rette dell'asilo nido della scuola materna e quelli del pre e del post scuola a Corsico. Alla scadenza, all'appello del comune, mancavano ancora un migliaio di famiglie che non hanno concordato con l'amministrazione comunale alcuna modalità di rientro dei debiti pregressi. Con il primo settembre entrerà in scena la società di riscossione, che avrà le pratiche per il rientro coatto delle rette non pagate. Sono molte anche le famiglie che devono verificare se hanno completato l'iscrizione, perché, come fanno sapere dal comune, non basta presentare l'ISEE. L'assessore alla scuola Angela Crisafulli e il sindaco di Corsico Stefano Ventura fanno sapere che chiedono alle famiglie di verificare se ci sono degli importi non ancora versati e di provvedere al più presto al saldo. Infatti, subito dopo, le situazioni debitorie non saranno più gestite direttamente dal comune, ma dalla società di riscossione, con oneri aggiuntivi, quindi per chi non ha provveduto al saldo e in tempo utile. Secondo il comune, in questa operazione non ci sarebbe nessun intento punitivo o vessatorio, ma un'attività di equità sociale che tiene conto delle situazioni difficili determinate anche dalla crisi pandemica. Abbiamo tolto la quota fissa della scuola dell'infanzia, prosegue il sindaco, ridotto a partire dal nuovo anno scolastico le tariffe della ristorazione, provvedimenti assunti perché, come amministrazione, si è deciso di essere al fianco delle famiglie e dei loro bisogni.